Ma voi quando tagliate la cipolla piangete? Io no. Andiamo a vedere perché. La cipolla rilascia un gas irritante quando la tagliamo. Per contrastarla esistono diversi medoti. Uno, possiamo porre la cipolla in frigo per circa mezz'ora oppure 10 minuti e un quarto d'ora nel freezer. Un altro medodo è passarle sotto l'acqua corrente oppure bagnare semplicemente la lama del coltello. L'ultimo consiglio che vi do è di avere un posto ben ventilato e ben areato. In questa maniera fidatevi non piangerete mai.